Buongiorno ascoltatori di YouTube, guardate questo nuovo collegamento della stazione di Como Camerlata tra le stazioni RFI e stazione Nord per Milano Cadorla e Comolago. Questo è il sottopasso che porta alla stazione della linea Nord, della linea Milano Cadorla-Comolago. Tornando indietro, ripercorriamo questo percorso e andiamo verso il collegamento della stazione nuova di Como Camerlata RFI. Ecco qui le indicazioni sulla bacheca ci portano anche in via San Bernardino dove sorgerà il nuovo posteggio auto. Questo è il nuovo collegamento della stazione unica di Como Camerlata. Dobbiamo dire che è un bel passo in avanti perché sono due stazioni vicine e si possono percorrere molti itinerari. Ad esempio poter scendere a Como Camerlata arrivando da Milano Cadorna e Saronno e prendendo in questo sottopasso sulla linea RFI i treni per Milano Porta Garibaldi, Milano Centrale, Chiasso, Lugano e andare fino a Locarno. Ecco qui, qui vediamo la bacheca degli orari davanti a noi. Qui a destra si va al binario 2 e qui andiamo al binario 1. Ecco qui il treno proveniente da Molteno e diretto alla stazione di Como San Giovanni. Uno dei treni vecchi ALL 668, treno diesel. Ecco qui abbiamo la stazione nuova con le banchine al binario 1 e binario 2. Qui abbiamo anche il collegamento con l'ascensore evitando poi le scale. ecco una banchina anche molto lunga dove poter prendere i treni verso la Svizzera. Dalla parte opposta si va verso Milano Garibaldi e Milano Centrale. Vediamo in fondo in arrivo un treno filo proveniente da Milano Centrale e diretto a Locarno. Vi saluto da questo YouTube di Sandro.